Energia solare, ma con degli specchi, è quello che hanno fatto in questa centrale termoelettrica. Ognuno di questi specchi è montato su un orientatore e tramite un sistema automatizzato tutti gli specchi indirizzano la luce del sole all'apice di questa torre, dove si concentra tanta energia da permetterci di creare vapore surriscaldato alla temperatura di 500 gradi, che a sua volta fa ruotare la girante di una turbina a vapore per produrre energia elettrica con rendimenti maggiori rispetto al fotovoltaico. Inoltre, questi impianti possono funzionare anche di notte, sarà sufficiente trovare un altro modo di generare vapore. In Italia abbiamo una centrale elettrica che funziona proprio così. Fammi sapere nei commenti se la conosci e ricordati di iscriverti al canale!